Salve a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Come sempre un saluto da Max e parliamo di gossip, parliamo di Amici22 che fa discutere perché Rudy Zerbi si scaglia contro gli allievi e annuncia dei provvedimenti veramente seri, anzi che dico, proprio drastici. In pratica dopo i brutti fatti successi nei giorni scorsi l'insegnante di canto ha deciso di parlare e farlo senza troppi giri di parole e quindi nel daytime che c'è stato qualche giorno fa è emersa una possibilità clamorosa che ha letteralmente sconvolto anche tutto il pubblico. Si tratta di una richiesta, una richiesta dura che potrebbe essere ufficializzata proprio in questi giorni. E ora sono davvero in tanti a tremare all'interno della casetta. Già in realtà Maria De Filippi era apparsa non molto tranquilla, quindi molto arrabbiata nel corso dell'ultima puntata, ma ora Rudy Zerbi è andato oltre e per gli allievi l'incubo di provvedimenti disciplinari è ormai dietro l'angolo. Sapete, insomma, loro si possono difendere proprio con i provvedimenti, no? Per cercare di far rigare dritti tutti quanti. Purtroppo la situazione in generale creatasi nella scuola non si è affatto risolta definitivamente e quindi lui ha optato per qualcosa di molto spiacevole per i ragazzi. Chissà se dopo questa presa di posizione del maestro ci saranno dei cambiamenti, ma sta di fatto che per ora la vicenda resta totalmente aperta. Come riportato dal sito fanpage che ci fa sapere che ad amici Rudy Zerbi ha chiesto che per gli allievi dei provvedimenti appunto disciplinari che siano praticamente esemplari. La conduttrice ha informato subito i ragazzi, cioè Maria De Filippi ha detto lui ha notato desolante mancanza di responsabilità e consapevolezza. Quindi la decisione che vorrebbe prendere l'insegnante è riferibile al caos legato alla scarsa pulizia in casetta, di cui ne abbiamo anche parlato nei giorni scorsi, insomma nei video scorsi, che ha fatto arrabbiare anche la presentatrice Mediaset e che ha già provocato la messa in sfida dei concorrenti Mattia, Gianmarco e NDG. Alcuni allievi non avrebbero ammesso le loro responsabilità facendo totalmente finta di niente e quindi le polemiche sono fuori uscite. A questo punto Rudy Zerbi ha invitato la produzione di Amici a regolarsi di conseguenza dicendo propongo alla produzione di chiudere questo piccolo teatrino veramente ridicolo. Propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica e che vi confondiate tutti, nessuno escluso su canto e ballo. Ma non sarà una gara fine a se stessa, solo per farvi paura. Alla fine di questa gara propongo che gli ultimi tre della classifica di canto e di ballo vengano ufficialmente e irrevocabilmente eliminati dal programma. Non sono soltanto parole pesanti signori, ma parliamo di eliminazioni, cioè quei ragazzi, quei poveri ragazzi potrebbero non esserci più. Dunque, a causa della scarsa igiene nella scuola e della mancata responsabilità da parte degli allievi, Zerbi ha invocato l'eliminazione della trasmissione di ben sei allievi signori, quindi sei persone sono a rischio squalifica. Tre provenienti dal canto e tre provenienti dal ballo. Adesso non ci resta che aspettare il giudizio degli altri professori e la decisione ufficiali del programma. Questo è tutto per questa informazione, vi ringrazio per l'ascolto, se volete mi fa piacere se ricevessi un bel like sotto questo video. Noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè, vi aspetto!